A Natale i sondresi si troveranno un bel regalo sotto l'albero, a confermarlo nell'assassore ai lavori pubblici del Comune di Sondrio, Michele Giannotti, assicurando che entro dicembre sarà terminato un nuovo parcheggio di fronte all'ospedale del capoluogo, opera che finalmente permette di riqualificare l'area di via Stelvio da tempo di smessa. Sì, sono iniziati la settimana scorsa i lavori di riqualifica dell'area antistante all'entrata all'ospedale, dove, area in cui verrà realizzato un parcheggio pubblico a rotazione di 68 posti auto, verranno anche riqualificate alcune aree verdi attrezzate che verranno messe a disposizione dei cittadini. Quindi questo progetto sicuramente non precluderà anche ad un ampliamento futuro di quest'area? Diciamo che, visto il costo dell'intervento che con il ribasso d'asta si aggira attorno ai 230 mila euro, quindi un investimento sicuramente non ingente, da un punto di vista economico è chiaro che potrà essere ammortizzato nel giro di 5-6 anni, quindi evidentemente per chi verrà, se vorrà decidere di utilizzare l'area in maniera diversa, insomma lo potrà fare. Intanto cominciamo a riqualificare un'area importante della città. Nello specifico, l'area interessata dall'intervento misura 3.000 metri quadri, di cui 1.600 saranno adibiti a parcheggio, che sarà dotato di illuminazione LED con impianto fotovoltaico, il cui costo si aggira sui 50 mila euro, e di un sistema di pagamento che prevede sia post-pay che cassa automatica con 5 telecamere. Nell'istante 1.400 metri quadri, invece, saranno allestiti dei percorsi pedonali e aree verdi, quindi non solo un semplice posteggio ma una tranquill'area di sosta anche per pedoni e ciclisti. E a proposito di ciclisti, entro il 2017 verrà realizzato un nuovo tratto di ciclabile, proprio di fronte al parcheggio del nosocomio. Nel programma dell'amministrazione per il prossimo anno abbiamo intenzione di realizzare una pista ciclabile proprio in quell'area, quindi metteremo a bilancio, metteremo a programma per le pubbliche questo tipo di intervento che verrà in parte finanziato dalla Regione Lombardia.